ciao sono luca manelli e in questo breve video voglio spiegarti una tecnica per ottenere rapidamente delle tavole di presentazione come quella che stai vedendo per cui il disegno con il tratto bianco e lo sfondo della tavola monocolore per realizzare la tavola che ti ho fatto vedere la prima cosa che vado a fare quella di andare all'interno del book di layout e andare a duplicare un master layout una volta duplicato questo master layout lo andrò a sistemare in modo tale da ottenere lo sfondo monocolore vado a rinominare il nome del master layout e una volta fatto lo vado ad aprire per quanto riguarda degli elementi contenuti all'interno del cartiglio possa magari procedere e andarli a cancellare nel caso in cui non mi interessa visualizzarli all'interno delle tavole di presentazione per quanto riguarda invece la squadratura e i testi devo procedere a fare delle modifiche tutti gli elementi linea li vado a selezionare per cui linee e polilinee apro la finestra impostazioni e vado a modificarne la penna nello specifico vado a selezionare la penna 19 che è una penna bianca una volta portate queste modifiche vado a selezionare tutti i testi e faccio la stessa identica cosa una volta fatta questa operazione ora posso andare a selezionare lo strumento retino apro la finestra impostazioni utilizzo un retino primo piano in maniera tale da avere una colorazione uniforme e vado a selezionare una penna da utilizzare con uno specifico colore che sarà il colore dello sfondo della tavola confermo con ok e vado a inserire il retino sull'intera tavola seleziono poi il retino clic con il tasto destro e vado a definire come visualizzazione del retino sotto tutto in modo tale da poter mettere come sfondo della tavola il retino questa sarà la colorazione che vedremo poi quando andremo a salvare la tavola se ora vado a creare un layout qui andrò associare questo nuovo master vedremo che tutto lo sfondo risulterà di colore rosso vado a creare il layout e vado ad associare il master clicco su crea questa è la tavola che ora andremo a impaginare la colorazione rossa è normale perché il colore rosso è il colore di default con cui gli elementi contenuti nel master vengono proiettati all'interno del layout una volta fatta questa scelta passo a lavorare sul disegno per cui vado in pianta vado ad apportare tutte le modifiche necessarie la prima modifica che vado a fare è dedicata ai retini perché tutti gli elementi d'arredo come gli elementi costruttivi hanno all'interno un retino questo retino lo andremo a eliminare per cui la prima operazione che faccio è quella di creare una sovrascrittura grafica dal menu documento vado a richiamare la voce sovrascrittura grafica combinazioni sovrascrittura grafica crea una nuova combinazione la vado a nominare pianta trasparente e confermo con ok all'interno di questa combinazione vado a inserire delle regole che sono già contenute all'interno del template standard di archica faccio clic su aggiungi vado a selezionare la regola tutti i retini coprenti li voglio trasparenti seleziono anche la regola tutti i retini di disegno li voglio trasparenti seleziono un'altra regola che riguarda i retini in sezione anche in questo caso vado a selezionare tutti i retini in sezione trasparenti senza separatori di strato e per ultimo vado a inserire una regola dedicata alle zone perché ho dei timbri zona inseriti all'interno del disegno e anche in questo caso utilizzo la regola tutti i retini in zona trasparenti fatte queste scelte confermo con ok e questo è il risultato ho svuotato tutti gli elementi di sezione e non ho più nessun tipo di retino all'interno delle zone e degli elementi di arredo ora devo andare a lavorare su le penne per poterlo fare vado ad aprire i set di penne parto da un set di penne impostato e vado a selezionare tutte le penne e gli cambio il colore imposto un colore bianco vado a memorizzare il set di penne lo vado a nominare bianco clicco su memorizza e confermo con ok questo è il risultato cioè adesso non vedo più niente anche se se dovesse andare a selezionare il disegno logicamente c'è ancora vado a salvare la vista vado a salvare all'interno della mappa delle viste queste sono le sue caratteristiche confermo con ok ora ritorno all'interno del layout e posso procedere a impaginare la vista una volta impaginata la vado a selezionare apro la finestra impostazioni e nascondo il titolo e questo è il risultato ora vediamo salvando la tavola in formato pdf come sarà la rappresentazione della tavola vado a salvare in formato pdf ecco questo è il risultato che poi è quello che hai visto all'inizio di questo video